Stanno arrivando molti italiani in questo locale, molti italiani. Lei è italiana Deborah, lui è italiano Franco, lei è italiana Nella, lei è italiana Anna, lui è italiano Massimo. Quindi abbiamo in questo angolo cinque italiani, italiana, italiano, italiana, italiana, italiana. Stanno arrivando molti italiani in un piccolo angolo, quasi quasi sono la metà dei presenti, sono italiani. E noi ringraziamo i stranieri italiani e qualsiasi persona. Il messaggio va dato a tutte e quante le persone, anche ai marziani, non solo agli italiani. E grazie a Dio.